Se sei il re della griglia e sei incuriosito dai barbecue americani, i Kamado, oppure dai Keter, quelli come ad esempio della Weber, questo video è quello che fa per te per capire le differenze tra i due prodotti. Ciao ragazzi, sono Mauro del mondo del barbecue di Padova, il negozio numero uno in Italia di barbecue e cucina d'esterno. Allora, oggi parliamo di un argomento interessante, vediamo le differenze principali tra la scelta di un barbecue Keter, quindi come ad esempio i classici Weber Master Touch, e i più performanti e i più costosi, soprattutto Kamado, come ad esempio il Big Green Egg, Fornetto e altri marchi che ben conoscete. Le differenze sono molte, spesso chi entra in negozio non percepisce questa differenza e assimila il Keter al Kamado, è solo un Keter più costoso, non è assolutamente vero. Le differenze sono moltissime e la scelta dell'uno e dell'altro dipende da che tipo di cotture volete fare e che tipo di prestazione volete. Partiamo con alcune differenze per capire subito, proprio dividere le due macchine. Allora, parlando di Keter, vediamo che è un barbecue formato da due gusci di lamiera smaltata, originario in America negli anni 50, è stato messo il coperchio principalmente per evitare sbalzi di temperatura, per evitare problemi con il vento, per consumare anche meno carbone. Come funziona? Solitamente va messa della carbonella, dei bricchetti di carbonella e consiglio proprio l'uso dei bricchetti per questo tipo di barbecue che danno parecchia potenza e soprattutto lunga durata. Il barbecue, essendo fatto di lamiera, consuma parecchio carbone, non ha nessuna massa termica. Va benissimo per fare cotture ad alta temperatura, cotture dirette, quindi braccia bella calda e carne sopra, o cotture indirette, quindi braccia solitamente dei lati con i due cesti di contenimento, vaschetta raccoglie grasso con magari un po' d'acqua e cottura indiretta tipo forno. Questi sono i due principali usi di un barbecue Keter, che sia di una marca o dell'altra, va molto bene quando lo si usa in questo modo. Va un po' meno bene quando si decide di fare cottura a bassa temperatura, tipo slow cooking, quindi il low e slow è un po' più difficile. I metodi per utilizzarlo in low e slow sono principalmente i più famosi, sono il metodo snake, che forse ne avete già sentito parlare. Quindi cosa faccio? Creo un serpente di bricchette all'interno della base del barbecue, preparo la ciminiera con un po' di bricchette accese, la verso all'inizio e pian pianino le bricchette si accenderanno una dietro l'altra per garantire una temperatura costante lungo tutte le ore di cottura, parliamo di 4, 5, 6, 8 ore. Principali problemi di questo metodo? A volte si può spegnere, quindi le bricchette non sono messe troppo bene e a un certo punto si spegne e la temperatura non la regolate voi, nel senso non potete decidere di alzare o di abbassare la temperatura perché avete messo 8 bricchette, arriverà a quella temperatura e dovete accettare quello che è. E soprattutto possono essi enormi differenze tra fare un pooled in pieno agosto e farlo a metà dicembre. Temperature esterne sono molte, l'isolamento è zero, quindi le bricchette che mettevate all'inizio in piena estate non bastano più per avere la stessa temperatura in pieno inverno. L'altro metodo interessante è il metodo che si chiama Minion, in cui consiste essenzialmente di fare da una parte un mucchietto di bricchette, accenderle nella parte superiore e con la regolazione dell'aria nella parte bassa e nella parte superiore del coperchio gestisco la quantità, la velocità e la quantità di carbone bruciato. Funziona ed è però anche qui abbastanza, se non molto, difficile mantenere la temperatura costante perché il kettle non è isolato, il kettle non ha la guarnizione tra coperchio e bracere, la valvola sotto sfiata da tutte le parti, quindi se è nuova, nuovissima, magari va perfettamente, col passare del tempo però perde aria, quindi riesce a entrare aria un po' dappertutto e la temperatura inevitabilmente tende a salire, e quindi se le prime ore magari avete un 110 gradi bello fermo, dopo pian pianino vedrete che fate fatica a continuare a tenere quella temperatura. Quindi ricapitolando sul kettle, è una macchina che va molto bene con le bricchette, consigliamo l'accensione delle bricchette con la ciminiere di accensione in modo da velocizzare questo processo e versare le bricchette una volta accese o nei cesti accenditori o in tutta la griglia sotto la griglia di cottura in modo da poter avere una cottura diretta. Il coperchio va mantenuto chiuso per strozzare la quantità d'aria che entra, quindi l'aria entrerà da sotto e uscirà dai forellini sopra il coperchio in modo da evitare fiammate continue perché lavoro per difetto d'aria in questo caso. Capita molto spesso che si mettono le bricchette, si accendono, si lascia un attimo il barbecue funzionare a vuoto proprio per far sì che la temperatura si stabilizzi e scenda un pochino perché all'inizio la potenza è tantissima, posso chiudere l'aria ma vedrete che alla fine il risultato finale sarà pressoché identico, quindi c'è bisogno di un po' di tempo per stabilizzare la temperatura. Vediamo ora il camado. Il camado è una macchina praticamente in ceramica di elevato spessore, quindi stiamo parlando di 3-4 cm di spessore con un bracere all'interno di altri 3-4 cm. Alla fine troviamo 6-8 cm di spessore dove viene inserito sempre carbone naturale. L'accensione è totalmente differente rispetto al kettle. In questo caso inserisco il mio strato di carbone nella parte bassa, metto un paio di bricchette di accensione, quindi un paio di accenditori, li accendo sopra e regolando l'aria dal basso gestisco quanta aria dare al carbone che sta accendendo. Naturalmente passati i primi 10-15 minuti che devo lasciare che il carbone prenda, a questo punto intervengo con la regolazione dell'aria. La regolazione dell'aria è molto precisa, quindi usando un carbone molto veloce tipo l'oli, ecco, oppure il carbone anche della Big Green Egg, che è ottimo in questo caso, gestisco io la temperatura perché il coperchio e il bracere sono chiusi tramite una guarnizione, la parte superiore del coperchio ha una valvola per l'uscita dei fumi molto precisa, la parte inferiore ha un'altra apertura che mi gestisce l'entrata nell'aria, tra l'altro con un effetto Venturi molto spinto, dato dalla forma del barbecue che è molto alta. E questo è importante perché è una macchina molto molto versatile, decido io a temperatura voglio lavorare, quindi lo accendo, do uno start iniziale in modo che si stabilizzi, a quel punto massima aria, lui inizia a salire fino anche a 400 gradi, a un certo punto parzializzo l'aria, lo chiudo, farà un paio di oscillazioni, ma si ferma a magari 110-115. Ecco, ci vuole il tempo perché questa massa di ceramica prenda temperatura e si stabilizzi, ma una volta che ha preso temperatura, è una cosa bellissima, perché non ho più problemi con le temperature esterne. Ed è questo che fa la grossa differenza di un Kamado rispetto a un Kettle, la possibilità di regolare la temperatura e la facilità con cui posso usarlo durante tutta la stagione. Il materiale isolante così importante riesce anche a contenermi tantissimo la quantità di carbone che sto bruciando. Quindi una volta che ho portato in temperatura il mio Kamado, vedrete che il consumo di carbone è veramente irrisorio, pur avendo un carbone leggero e un carbone che si consumerebbe in fretta. Ecco, quindi se prendo lo stesso carbone e faccio le stesse cose sul Kettle, vedrete che il consumo è triplicato, proprio perché il Kamado lavora solo con l'ossigeno perfetto che io riesco a dare tramite le valvole. Qual è l'uso principale che si presta a fare il Kamado? Il Kamado è una macchina che va bene per tutti gli usi, è un barbecue veramente completo, quindi voglio fare cotture dirette, accendo il carbone, coperchio aperto, lascio che prenda bene, quindi il carbone inizia a bruciare tutto, metto la griglia e regolo la temperatura, magari sono a 250 gradi. Voglio fare cottura indiretta ad alta temperatura, c'è l'accessorio apposta che serve per far sì che il calore vada indirettamente sulla griglia principale e raccolga anche i grassi naturalmente e a questo punto posso settare la temperatura in alta temperatura, lasciando andare, bruciare, quindi che il carbone abbia preso bene, a questo punto blocco le valvole oppure posso andare in slow cooking, quindi anticipo quando vedo che la lancetta, una volta che ha scaldato tutto il barbecue, sta salendo, inizio a chiudere le valvole che sono in questo caso molto importanti e molto precise. Spesso qualcuno mi dice ma io non so usarlo, non lo capisco, per me è una cosa un po' strana, arrivo dalle bracci, non capisco il concetto di intanto coperchio chiuso obbligatoriamente e valvole. Allora, l'apprendimento c'è, niente da dire, ogni tanto che trovo dei clienti che non sono contenti di risultati che hanno col Kamado, anche col Kettle comunque, perché sostanzialmente fanno dei banali errori. Noi siamo qua apposta per darvi una mano, per far sì che anche un prodotto che, non posso chiamarlo complesso, però è un prodotto che va capito, voi lo acquistiate con una certa fiducia, perché hanno un costo sicuramente superiore ai Kettle, ma vi dà delle soddisfazioni enormi. Piccolo esempio, volete fare una cottura slow cooking di un pooled da 9 ore, è la cosa più facile di questa terra. Una volta che il barbecue è settato e basta, ripeto, passare di qua, fare una telefonata, vi diamo tutte le spiegazioni che vi servono del caso, voi andate a fare altre cose in casa senza dover mai preoccuparvi se la temperatura si alza o si abbassa. e il barbecue è super preciso. Il Kettle, come avevo detto precedentemente, diventa complesso in questi tipi di cottura. Tanti lo fanno perché lo spingono un po' al limite, facendo un sacco di escamotage. Ripeto, secondo me, secondo noi, non è nato per quel tipo di lavori. Diventa molto più soddisfazione usare un Kettle per una classica grigliata e via. Metto le bracci al 50% da una parte, lascio il libro all'altro 50%, ho metà della griglia caldissima, l'altra metà dove metto la carne in riposo. Devo ricordarmi di usare il coperchio per evitare che prenda troppa aria e è finita lì. Oltre ad avere la cimera di accensione che risolve mille problemi di accensione. 30 minuti, svuoto il carbone. Ricordo, vi consiglio l'uso delle brichette in questo caso e veramente la cosa è fatta. Quindi, non confondiamo le due macchine. Ripeto, sono due macchine che potrebbero anche vivere contemporaneamente sullo stesso giardino perché una è semplice, economica i kettle partono dai 200-250 euro quindi non stiamo parlando di spese esagerate fino a 500-600 euro avete il massimo di un kettle. Dall'altra parte è una macchina che parte un Kamado Large partiamo dal 1000-1200 a salire. Ecco, quindi è abbastanza ma non è neanche tantissimo e vi permette di fare veramente tutti i tipi di cultura. chi acquista un Kamado difficilmente lo cambia e una volta che l'ha capito difficilmente torna indietro. Ok ragazzi? Questa, ecco, ho voluto fare questa spiegazione un po' per risolvere dei dubbi che sento giornalmente dai clienti che entrano in negozio oppure ci chiamano telefonicamente riguardo a questa scelta che ritengo da chi non ha mai usato né uno né l'altro essere veramente difficile da fare. Spero che questo video vi abbia aiutato naturalmente siamo qui per eventuali spiegazioni. Grazie a tutti e buona giornata.